Cinque tappe, molti chilometri percorsi, sei edizioni e associazioni di paesi diversi sempre più affiatate nell'organizzazione. Va in archivio con un bilancio più che positivo, il circuito Retici Balzi 2018, un mix di corse camminata ideato e condiviso da Proloco di Poggi Ridenti, Pentacom, PT Skyrunning, Gruppo Sportivo Triangia, Proloco di Castione e Avis di Tresivio. Una kermes lunga un'intera estate, capace di mettere in luce il territorio e il grande lavoro che le associazioni, grandi e piccole, svolgono quotidianamente per la promozione e la pratica dello sport. Ad aggiudicarsi il primo posto quest'anno nella classifica delle società, la polisportiva albosaggia ASD, seguita da PT Skyrunning e 2002 Marathon Club. Nell'individuale e femminile, vittoria di Lucia Moraschinelli del PT Skyrunning, nella maschile, dominio assoluto di Francesco Leoni della polisportiva albosaggia e nella nuova categoria cortocircuito, primo posto per Valentina Tognoni, sempre della polisportiva albosaggia ASD. Ed è stata proprio l'introduzione del cortocircuito a rendere speciale questo appuntamento del 2018. I percorsi specifici, studiati appositamente per i più piccoli, hanno favorito la loro partecipazione avvicinando un grosso numero di bambini e ragazzi. La manifestazione si è così data concretamente l'obiettivo di andare, anche in futuro, oltre la competizione, offrendosi come veicolo per la socializzazione l'avvicinamento alla vita salutare e alla natura.